Potranno dormire sonni tranquilli i dipendenti e i fornitori dell'azienda di trasporti Vastese Cerella. Lo assicura il presidente vicario della regione Abruzzo Giovanni Lolli. In seguito all'incontro avuto questa mattina in regione a Pescara con i rappresentanti sindacali e lavoratori che rivendicano il pagamento degli stipendi dovuto ad una grave crisi di liquidità che sta portando al collasso tutta l'attività di trasporto gestita dall'azienda del Vastese. Sabato abbiamo assunto una delibera con la giunta in cui abbiamo dato mandato al consiglio di Nicola e a me che andremo il 19 all'assemblea di Tua a chiedere che l'assemblea di Tua proponga una ricapitalizzazione per l'assemblea, la riunione del consiglio di amministrazione di Cerella che si terrà nella settimana successiva. Noi come regione abbiamo messo a disposizione un trasferimento di risorse verso Tua di 500 mila euro per poter garantire questa soluzione. Naturalmente la cosa è motivata dal fatto che se non lo facessimo si interrompe un servizio essenziale per un pezzo di territorio particolarmente delicato e tra l'altro si manderebbero a casa senza stipendi 70 o più lavoratori. Che non stiamo facendo un finanziamento tabbone, noi stiamo facendo un finanziamento che consente la necessità che questa società ha di presentare un piano industriale, nella delibera tutto ciò indicato con grande chiarezza, un piano industriale di rilancio della società. Mi avviso è una società che merita assolutamente la partecipazione pubblica, fa un servizio in modo corretto, con costi contenuti, andava trovata una soluzione, stiamo trovando la migliore dentro lo schema delle norme attuali che ci impongono alcune scelte sì e ce ne pregiudicano altre.